che cos'è questo? buongiorno io sono la dottoressa luisa beffano! quindi non solo per le orecchie ok ma comunque come vi dicevo vedete ho questa valigetta perché ho dei pazienti urgenti quindi devo andare a beffano tu mi sostituirai io? ah va bene ma secondo te che cosa ci si fa con questo? e questa a che cosa servirà? chissà che cosa serviranno tutte queste cose questo qui lo conosco perfetto non sento niente ad essere sincera spero proprio che oggi non venga nessuno perché io non ne capisco niente di medicina chi è? ciao beffana non mi sento tanto bene ciao chase veramente io non... rubble? ehi ho mal di gola ma non sapevo che facessi il dottore e adesso che cosa gli faccio a questi due? ragazzi non potreste aspettare un pochettino che... Marshall non avrei dovuto mangiare così tanti caramelle oh mamma e va bene non c'è niente di impossibile per la beffana che cosa possiamo fare? ci penso io che ne dite di una bella puntura? no per favore ti prego va bene tanto nemmeno so a che cosa serve ho una martellatina ah no basta ehi non sei male e va bene si vede che è inutile anche questo io conosco un rimedio che con me non ha mai fallito i cerotti magari qualcuno di voi ha un graffietto? ma qual è graffio? ha detto che ha mai di gola e vabbè ma magari avete un callo non ho un callo ho mal di pancia e vabbè ma questo è un cerotto della beffana per tutte le malattie e allora chi è il primo? eh cì io io sono il primo mettiamo il cerotto della beffana sull'asino di Chase ma a me sembra che non funzioni e c'è la mia gola pietà la mia gola togliamo questa sciarpa Rubble dimmi dov'è che hai la bua qui per pietà la mia gola qui qui sono la mia pancia non ti preoccupare adesso risolviamo tutto con un cerottino della beffana grazie allora vi sentite un po' meglio? veramente no io sto ancora spaventando mi fa male la pancia eccomi qua ma quanti malati ma beffana ma come vuoi stanno così male? ma gli ho dato un cerottino ciascuno ma cosa serve il cerotto? che cosa ti fa male? mi fa male la gola e a te che cosa fa male? io ho il raffreddore e a te caro che cosa fa male? ma io l'ho detto già che ho male di pancia ma come ti è venuto in mente di inquallarmi un cerotto? con me ha sempre funzionato Rubble per te ci vuole assolutamente dello sciroppo per la gola oh grazie Luisa mi sento già meglio per te Chase ci vuole dello spray nasale grazie oh mi sento già meglio e per te Marshall ci vuole una pillola per il mal di pancia grazie oh mi sento già meglio ottimo lavoro allora è un bene che tutti vi sentiate meglio è un vero peccato perché con me hanno davvero sempre funzionato e tu come ti curi? mi raccomando non usare un cerotto per tutte le malattie e rivolgiti al medico è giusto rivolgiti al medico però non andare via aspetta un attimo devo regalarvi le caramelle evviva 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 le caramelle grazie Stefano io no grazie mi ha fatto tanto male la pancia giusto Marshall ciao ciao ciao